Alessio Polidori è una delle eccellenze sportive della nostra Valla Tiberina campione italiano classe MX2 categoria rider per l'anno 2018 Alessio, giusto quando dico hai vinto il titolo da decente all'ospedale te lo hanno comunicato, eri infortunato no? Purtroppo sì, hai ragione anche perché è un dispiacere non poter festeggiare in pista con gli amici un campione italiano perché non tutti gli anni capita di vincerlo Stanno purtroppo c'è stato un piccolo infortunio la settimana prima dell'ultima prova e che mi ha costretto una settimanellina all'ospedale e quindi niente, mi è toccato aspettare e avere la conferma del titolo in ospedale col telefono in mano e vedendo le classifiche della domenica Anche perché poi è stato un infortunio che ti ha tenuto lontano dalle piste per qualche settimana, giusto? Sì, alla fine un mese e mezzo praticamente abbondanti e purtroppo è successo poi proprio la settimana prima quindi è stato anche un po' a finire la stagione non l'ho finita, l'ho finita infortunato ora siamo già ripartiti, sto bene stiamo valutando delle cose per la stagione che verrà e quindi speriamo insomma di continuare più in questa strada Tu Alessio sei una persona estremamente decisa in quello che fai ciclista e anche lì partecipa ai vari campionati credo con buoni risultati campione italiano, categoria rider intanto toglimi una curiosità categoria rider, che cosa significa? Praticamente nel motocross ci sono quattro categorie rider, expert, fast e delitte sono le quattro categorie che puoi partecipare a un campionato italiano Ti ritrovi a concorrere con atleti importanti parliamo di un campionato italiano? Sì, ora quest'anno sarà ancora più dura perché avendo vinto la categoria di qua passerò sulla fast elite dove andrò a correre con gente di altissimo livello anche a livello mondiale quindi sarà dura perché io ho un'attività lavoro, quindi non sarà facile coincidere tutte le cose però l'impegno ce lo aumentiamo come hai detto te prima al 100% insomma Cerchiamo anche di capire poi ci anticiperai qualcosina che riguarda l'anno 2019 Tu hai vinto il titolo a settembre con quante gare di anticipo? Il campionato era di quattro gare e io ho saltato l'ultima quindi praticamente fino all'ultima gara non lo potevo aver vinto l'ho vinto stando in ospedale però all'ultima gara In giro per l'Italia credo, no? Sì, quest'anno siamo partiti con la prima gara cingoli nelle Marche poi siamo passati a Faenza in Emilia Romagna Grosseto e l'ultima a Cremona Mi toglie una curiosità al Crossodomo Ceccarini hai gareggiato? Quest'anno abbiamo fatto solo una gara di regionale e quindi ora vedremo quest'anno cosa si fanno altro È lì che ti alleni, no? Sì Sì, non sempre però quando non ho possibilità di uscire fuori sì, mi fermo qui a Castello E ora sali di categoria con quali aspettative? Vai, sì sicuramente di divertirsi e poi vediamo Mi piace vedere i tuoi post su Facebook c'è la tua bellissima ragazza che ti prepara addirittura il pranzo Voi fate vita proprio da piloti ma siete anche una famiglia Sì Lei mi dà una bella mano mi ha dato quest'anno condivide la mia passione va in moto anche lei quindi è meglio di così E vi siete conosciuti in pista mi dicevi? Assolutamente sì E allora dicevamo sali di categoria le aspettative le vedremo settimanalmente o mensilmente perché è un campionato estremamente difficile è anche difficile economicamente perché è un impegno credo, no? Sì il motocross è un impegno su tutti i lati ora io ho tanti anni che lo pratico e non è il primo campionato italiano che ho vinto quindi comunque sia sono un ragazzo abbastanza conosciuto e quindi una manina di qua una manina di là ci riesce a fare la stagione non è un lavoro assolutamente Senti ma mi toglie una curiosità tu mi dicevi tempo fa che il tuo meccanico di fiducia è tuo zio Sì mi dà ora anche lui un pochettino altre cose da fare a casa comunque sia anche continua a lavorare quindi mi sto appoggiando a un ragazzo di un vertito adesso per i motori però sì fino a qualche anno fa è sempre stato lui Allora la moto è una Yamaha sì ho incominciato la stagione con un squarna e poi per delle cose mie tecniche sono passato a Yamaha e continuo tuttora anche quest'anno questa stagione quella che sta per iniziare ti vedrà sempre in sella ad una Yamaha oppure hai qualche idea diversa No 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 moto assolutamente Yamaha e sto valutando e decidendo di andare su un altro team per un'assistenza un pochettino maggiore al campionato italiano Ti faccio un'ultima domanda se tu dovessi tornare indietro no e dovessi scegliere di provarci seriamente veramente a fare questo mestiere di che cosa avresti avuto bisogno Sinceramente ci ho provato gli anni indietro gli anni buoni mia ci ho provato forse qualche infortunio in meno mi sarei divertito forse di più E per quanto riguarda la bici La bici devo ringraziare assolutamente i ragazzi di Bikeland perché l'anno scorso io me l'ho preso un anno stand by con la moto per cose mie con il lavoro e ho cominciato a correre in bici e assolutamente mi sono divertito con questi ragazzi della Bikeland e spero comunque sia di avere tempo per continuare a andare a fare qualche gara anche con loro per stare ad alti livelli comunque sono due sport inconciliabili assolutamente assolutamente anche perché se uno lavora durante il giorno non puoi fare due sport a alti livelli devi cercare di avere quel poco tempo sfruttarlo su un obiettivo solo ti rubo ancora un secondo per gli allenamenti che tipo di preparazione fisica fate per arrivare a questi livelli soprattutto perché tu dici io ho un'attività che mi impegna dieci ore il giorno io mi occupo la pausa pranzo da mezzogiorno alle due tutti i giorni e ci metto dentro piscina palestra o bici insomma quello che posso e la sera se non finisco troppo tardi e ho ancora voglia in casa faccio un po' di palestra fino alle otto e mezza così e quindi allora diamo appuntamento inizia il campionato italiano quando? il campionato italiano a marzo metà marzo noi rientriamo dalla Sardegna i primi di febbraio e il 17 febbraio la prima di regionale